Ciao ragazzi e benvenuti nella mia cucina, io ho un bel grembiolino guardate perché sto cucinando sto preparando una cenetta fit, ho pensato di farvi vedere tutti i piatti che preparo così magari potete prendere spunto per fare un menù magari per i vostri amici perché comunque si può mangiare sano e diciamo fit, anche bene, però tutti i piatti buoni poi se riesco mi registro anche tutte le singole ricette così magari vi carico i video nei prossimi giorni voi comunque iniziate a farmi sapere nei commenti quali ricette vorreste vedere di questi piatti che vi faccio vedere quali vorreste vedere così quelle più votate magari li carico per prima i video e iniziamo, vi faccio vedere tutte le cose che ho cucinato, sto cucinando vuoi vedere l'antipasto che ho fatto? è inutile guardate che bell'antipasto ho fatto, le noci e le patatine non sono fit e i lupini la torta è fit, la torta è fit è tutto fit è tutto fit questa è la pasta, l'ho fatta bella croccante perché a noi piace proprio così, molto croccante ragazzi questa è la mia pasta fit, è troppo buona ma ragazzi dite che buona, poi dopo vi parco lasciatevi che buona croccante croccante sicuro ma cos'è che cos'è? ma il bagno è in fondo a testa lasciatevi un like, ciao mi sfottite? vuol dire che stanno buono perché nessuno ha lasciato niente il suo piatto non lo voleva questo è cattivo, fatele via no comunque dai è piaciuta guardate la pasta è piaciuta perché è finita tutta è vero? no non è vero è finita tutta quindi è piaciuta finalmente sei persone però intanto è finita dopo la pasta gli involtini di pollo sono buonissimi come sono con la fisa di tacchino e sono buonissimi buonissimi mi sono apprezzatissimi questa è la Sucker torta la smettete? ragazzi ecco la torta adesso la devono provare ci vado a sapere che cos'è com'è ragazzi è troppo buona questa torta guardate com'è invitante è invitante eh? guardate dentro com'è si va A presto